Professor Paraguna, che cos'è la LIVE? Innanzitutto la parola LIVE è un acronimo, significa liberazione della vita emozionale. Questo è quando la LIVE praticamente è un tipo di intervento mirato a sciogliere i blocchi emozionali dovuti a traumi emotivi che possono aver instaurato una disfunzionalità tanto della vita affettiva quanto degli aspetti somatico o psicosomatico della persona. Quindi tanto lungo a processi somatopsitici nel caso in cui un evento traumatico ha generato una contrazione d'ordine e quindi un vissuto emozionale negativo, tanto somatopsitico laddove praticamente c'è un vissuto psicologico che ha provocato questo danno. In quali tempi si ottengono i risultati? I risultati diciamo, trattandosi di una terapia che agisce sul corpo, sul soma, quindi praticamente che non entra nell'abito interpretativo o cognitivo, quindi bypassa la coscienza, i risultati possono essere abbastanza rapidi, né più né meno come succede in un massaggio ordinario dove il massaggio è automaticamente rilassando i tessuti però con uno stato di benessere. In questo caso il benessere si trasferisce dal soma anche all'aspetto psicologico, quindi al vissuto affettivo. È possibile associare la LIVE a terapie medico-psicologiche? Sicuramente, senza altro, anzi diciamo è uno strumento privilegiato proprio per gli operatori diciamo nell'ambito della terapia medica e psicologica in quanto permette di accelerare il raggiungimento degli obiettivi desiderati senza lugagini, senza diciamo riferimenti a carattere di tipo cognitivo ma praticamente permettendo, rilassando il blocco emozionale che si manifesta nel corpo, di permettere di ripristino delle funzionalità tanto organiche quanto affettive. Qual è l'obiettivo del corso? È a chi si rivolge?